Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovi video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi per non perdere nessuna notizia del mondo di Call of Duty. Torniamo a parlare del terzo DLC di Call of Duty Black Ops 3 annunciato proprio ieri sera da Activision e Treyarch. Trovate tutti i video di approfondimento sul mio canale YouTube perché vi volevo parlare del tema gratuito Gord Grovi, tema dinamico per PlayStation 4. Adesso vi spiego tutto quanto. Per tutti coloro che andranno a fare il preorder del terzo DLC di Call of Duty Black Ops 3, sto parlando di Descend, e per tutti coloro che già possiedono il Season Pass oppure lo andranno ad acquistare ci sarà la possibilità di scaricare gratuitamente dal PlayStation Store il tema dinamico gratuito Gord Grovi dedicato appunto alla mappa Zombies del terzo DLC del titolo della Treyarch. Potete vedere infatti una primissima immagine di come cambierà la dashboard della nostra PlayStation 4 con appunto Stalingrado e sulla sinistra il Mega Dragone veramente nero e molto arrabbiato. Secondo me è un tema veramente bellissimo per la nostra PlayStation 4 e sarà ovviamente riservato a tutti coloro che faranno il preorder del DLC 3 Descend di Call of Duty Black Ops 3 oppure per tutti coloro che hanno oppure compreranno il Season Pass di Call of Duty Black Ops 3 su PlayStation 4. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo tema e rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie del mondo di Call of Duty. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale!